e non fare la banana flambe da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone can you hear the screaming of sun we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuderone e ragazzi wasabi un bel po' di news anche oggi per quello che riguarda il nostro fortnite e i prossimi giorni che stanno per arrivare ai 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 ragazzi domani sarà già tempo delle sfide della settimana numero 6 abbiamo già oltrepassato la metà di questa season per questo ragazzi vi farò vedere in anteprima tutte le sfide che dovremo affrontarle affrontare ma parleremo anche di alcuni dettagli magari trascurati della patch 8.20.1 in poche parole l'aggiornamento che ieri è stato fatto senza bisogno di downtime dei server e senza bisogno di riaggiornare in poche parole era già stato scaricato da parte nostra nel precedente update parleremo anche ragazzi ovviamente sulla bocca di tutti non possiamo ignorarli i nuovi scavi stanno cominciando ragazzi ad affiorare per quello che riguardano le teorie dei nuovi scavi perché ci sono innanzitutto cosa vanno a richiamare ragazzi vi farò vedere uno spezzone che vi farà un po' venire la nostalgia e quindi non perdetelo voglio comunque ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiodarone nello shop mi raccomando ragazzi iscrivetevi anche al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sulle mie live o sui miei video ma prima ragazzi dai la domandina raga ve la devo fare la domanda è facile è una domandina facile e devo saperlo raga cosa ne pensi del nuovo arco? eh dai una delle cose più importanti di questo aggiornamento di questa patch 8.20.1 è proprio l'introduzione ragazzi della nuova arma l'arco esplosivo tanta tanta roba a me personalmente piace non ho avuto modo di provarlo con precisione però fa male ragazzi i dardi esplosivi sono veramente fastidiosi ditemi cosa ne pensate qua sotto nei commenti nei commenti ma quindi ciancio alle bande e banda alle ciance parliamo subito di lui ragazzi eccolo qua il nostro arco esplosivo vi ricordo alcune notizie sull'arco scocca le frecce con una cartuccia di fucile pesante sulla punta quindi funziona con i colpi del points più i colpi del fucile pesante scusatemi più a lungo teniamo premuto il comando di sparo e più il colpo sarà veloce veloce tra l'altro vi ricordate il video dell'altro ieri mattina è stata confermata la riga che vi avevo fatto vedere che è proprio la traiettoria della freccia wasabi lo becco i leak li becco i leak allora dopo 1,6 secondi in cui teniamo l'arco teso raggiungeremo la piena potenza con un colpo diretto faremo un danno di base di 15 alla testa il moltiplicatore sarà per 2 quindi 30 ma il danno dell'esplosione è invece 100 quindi vuol dire che se prendiamo alla testa un nemico gli facciamo 130 di danno tanta tanta roba ragazzi per questa pace voglio farvi però prima a vedere una cosa perché è veramente molto molto curiosa non so se lo avete visto ragazzi ma eccolo qua il trailer molto veloce ufficiale dell'arco ce lo godiamo insieme un attimo nice nice tanta tanta roba ragazzi per questo trailer ufficiale dell'arco che è veramente tanta tanta roba quindi arco sicuramente una delle modifiche più interessanti ma arrivano anche ragazzi modifiche per quello che riguardano i peperoni dai peperoncini quelli che si trovano nel bioma del deserto raddoppiato il tempo di velocità del nostro personaggio 20 secondi al consumo di ogni peperoncino e velocità aumentata al 40% cioè quindi corriamo ragazzi come se più che mangiarcelo ce lo avessimo infilato da un'altra parte fatti anche delle correzioni per quello che riguarda invece ragazzi l'arena la tanto ambita arena che stiamo facendo in live ogni giorno adesso il matchmaking se giocate in coppia è assolutamente più bilanciato aggiungono anche nella modalità creativa delle forme geometriche molto particolari in minecraft style quindi se giocate e se create mappe nella creativa andate a dargli un occhio veramente tanta tanta roba modifiche anche ragazzi per quello che riguarda salva il mondo hanno aggiunto il nuovo lanciarazzi veloce quindi si chiama dispositivo di lancio cannoneggiamento quindi anche lì va un po' a riprendere diciamo sempre tutto l'ideologia dei pirati di questa season hanno risolto ovviamente un bel po' di problemi non ve li sto ad elencare tutti ad esempio non c'è più il bug degli spettatori tanta roba hanno sistemato un problema dove le trappole a dardo velenoso venivano nascoste dietro degli oggetti non erano visibili insomma ragazzi sono stati degli aggiornamenti sicuramente molto graditi che hanno nettamente migliorato il nostro modo di giocare ma andiamo avanti ed eccoli qua ragazzi gli scavi con l'update arrivano anche i nuovi scavi al centro di sprofondo stantio insomma ragazzi per la seconda volta nella storia di fortnite quel centro ha degli scavi che sono molto molto simili a quelli che avevamo già visto nella season numero 4 scavi che al loro interno hanno delle pietre ragazzi ovviamente intorno tutta l'impalcatura con le ruspe e come sappiamo ragazzi le pietre si possono rompere durano tantissimo tipo mezzo milione di punti di salute per le pietre ma rompendole tutte ragazzi guardate che cosa appare ed è tanta tanta roba ragazzi è un'immagine che ci deve far pensare ve la voglio zoomare un pochettino eccola qua ragazzi eccola qua è un'ancora vi faccio vedere lo spezzone nostalgico raga dai è un'ancora che conosciamo tutti e che ci era già capitato di vedere nella season 4 porca porca ve lo ricordate il momento dell'apparizione dell'ancora nella season 4 da parte del rift mamma mia l'ancora lo scheletro la carrozza me le ricordo come se fosse ieri sad story non c'è più putrido pantano la domanda ragazzi è cosa cacchio significa l'ancora là in basso e se sappiamo che l'ancora quella che già tutti conosciamo è relativa ai vichinghi non è che ci sarà qualcosa di serio nella season 9 con i vichinghi che stanno già anche modificando le case di spiagge snob insomma ragazzi questa sicuramente è una season che ha tanti di quegli elementi da far girare la testa come ad esempio ah no cavolo non riesco a dirvelo vi dico le sfide della settimana numero 6 è vero ragazzi non abbiamo tempo per farvi vedere altre modifiche le vedremo nel video di domani non c'è problema eliminare avversari alla laguna languida oppure a rapide rischiose che invece si chiama rapide ghiacciate visitare i 5 punti più alti dell'isola ovviamente non vi preoccupate troverete il video domani come spiegazione visitare un coniglio di legno un maiale di pietra e un lama di metallo sappiamo tutti e tre dove sono troverete il video anche di questo fate un'eliminazione con una pistola flint knock quindi la pistola nuova o con il nuovo arco usare 3 2 diversi oggetti consumabili in un unico match quindi mele e funghi per esempio o banane o noci di cocco o quello che vi pare ragazzi cercare dove cercare il punto preciso nella mappa del che viene segnato dal coltello quindi questa settimana ragazzi giovedì troverete tre video spiegazione per le sfide e poi ovviamente il vario i vari atterraggi fatal fields lazy lag shifty shaft frosty flight e sunny steps beh ragazzi ne abbiamo dette tantissime anche oggi spero che anche oggi il video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale codice creator xyuderone noi ci vediamo alle 13 live con l'arena dai grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!